La conservatezza correttamente intesa va considerata come una propaggine della nostra personalità, della nostra dignità personale. Sotto questo profilo la legge del 1996 è appropriatamente indirizzata a salvaguardarci come persone da indebiti e intrusioni nella sfera nostra più personale, ma sicuramente non si vuole porre, è quasi così, come un argine nei confronti dell'accertamento di condotte trasgressive, sostanzialmente quindi condotte antisociali, che devono essere portate a conoscenza della collettività perché questa se ne possa difendere. La riservatezza appropriatamente intesa è vissuta nello spirito della legge e quindi è la sfera della nostra libertà di essere noi stessi. La riservatezza strumentalmente intesa invece è il diritto di qualcuno o meglio la rivindicazione del diritto di qualcuno a poter fare i propri comodi senza essere scoperti dall'autorità. Allora, meglio sorting è un comportamento espressivo di condotte insieme aggressive e neurotiche che si traducono spesso in un senso di possesso di un individuo nei confronti di un altro e nel dispetto che si prova in forma appunto nevrotica per la privazione, per la perdita di quello che si sente un proprio oggetto personale. Un atteggiamento persecutorio che finisce per nevrotizzare a sua volta il soggetto che lo subisce, il soggetto passivo e comunque per creare uno stato d'ansia. Giustamente la legge ha ritenuto di perseguirlo in modo particolarmente severo perché finisce per determinare la caduta persecutoria.